Il pianoforte per me è vita. Sono Luca D'Amato, ho 23 anni e nella vita suono il pianoforte. Quando ho poggiato le mie dita sui tasti ho scoperto un mondo nuovo. La prima volta che ho suonato per strada mi accompagnava mio padre. Mio padre mi dà tanta forza, ci diamo forza a vicenda cercando entrambi di continuare ad andare avanti. Non ho più mia mamma da un anno e mezzo. Cambiato tutto da quel momento. Bisogna agire con più responsabilità, dare forza a una famiglia che deve sentirsi unita nel momento più debole. Sono per strada da ormai più di quattro anni. Mio padre mi ha accompagnato dalla prima volta e l'ha fatto principalmente per il suo desiderio di genitore, di voler rendere vivo il sogno dei propri figli. In Piazza San Carlo passano tutti. L'espressione delle persone, la naturalezza, è come se entrassero in un'altra dimensione dove i problemi che avevano fino a cinque minuti fa non esistono più. E tutto ciò che la strada mi dà è tanto valore aggiunto, musicale e soprattutto umano. Lo spero, spero che mia madre sia orgoglia di animale.